Ciao a tutti, Brushes Legacy, un DVD sulle spazzole, abbastanza informale, tipo Masterclass, che abbiamo registrato nello studio di Stefano Bertolotti per la Ultrasound Record. È un DVD che uscirà entro il 2018, l'ho registrato in compagnia del mio trio WeKids con Giuseppe Vitale al pianoforte e Stefano Zambon al contrabbasso e in compagnia di quattro giovani bravi spazzolisti, tutti i miei ex allievi, Ale Rossi, Enrico Smiderle, Davide Bussoleni e Mauro Mengotto. È un DVD interessante nel quale abbiamo suonato tutti quanti a turno con il trio, quindi piano e contrabbasso, ognuno a suo modo, esprimendo il proprio mood spazzolistico. Ballad, medium swing, latin, degli assoli creativi, classici e anche qualche chiacchierata su come ognuno di noi vede il mondo delle spazzole. Credo che sarà un DVD molto molto carino, l'attesa è un po' lunga perché è un DVD lungo e lavorato che adesso andrà montato, selezionato, insomma c'è un bel po' di lavoro da fare oltre la registrazione che è stata fatta in una giornata, per cui ci risentiamo tra qualche mese e vi terrò aggiornati. Brush's Legacy!